Ringraziamo ovviamente il nostro direttore Stefano Calvi che ha realizzato queste interviste Parliamo di Olimpiadi, di Olimpiadi che ci danno un po' là per introdurre i nostri nuovi ospiti Allora permettetemi di salutare Luca Lovelli, buonasera Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori Che è il direttore di Azzurri di Gloria, questa realtà di cui adesso ci parlerai Un saluto anche a qualcuno, se lo ricorderà, magari dagli anni passati per le vecchie trasmissioni Simone Lujudice, buonasera Buonasera a tutti, buonasera E buonasera a Marco Corradi Buonasera a tutti Allora, con gli Azzurri di Gloria che sono specializzati proprio in Olimpiadi Parliamo di questo, delle Olimpiadi Non ovviamente non solo quelle di Tokyo ma anche quelle di Pyongyang Che sono un po' più vicine a livello temporale Ma volevo andare da Luca Lovelli a chiedergli come è nata l'idea di Azzurri di Gloria Come siete partiti e come vi siete organizzati Allora, è nato tutto poco meno di due anni fa, un anno e mezzo fa Quando io tra l'altro per un periodo della mia vita ho vissuto in Spagna, all'estero Visto che Simone è sempre stato il mio braccio destro nelle mie idee in ambito sportivo E' stata la prima persona che ho contattato per cercare di realizzare questo Io pensando all'avvicinamento a Rio ho detto Perché non inventare qualcosa, un'attestata che parli degli atleti italiani Solo puramente gli atleti italiani Degli sport olimpici per avvicinarci alle Olimpiadi Sono partito contattando Simone, poi è arrivato Marco, sono arrivati tanti altri Ora siamo comunque più di dieci, un gruppo abbastanza solido Una redazione delle proprie Sì, stiamo appunto, noi abbiamo seguito Rio live minuto per minuto Rio 2016, sia Olimpiadi che Paralimpiadi, ci tengo a dirlo Certo Proprio di sport olimpici, paralimpici, estivi e invernali Anche nel periodo successivo Quindi l'abbiamo affrontato la stagione invernale Con grosso impegno Ora si è aperta un po' la stagione degli sport estivi E stiamo procedendo spediti Ecco, come dice Aito vi occupate di tutti gli sport olimpici Ovviamente ce n'è un'infinità Ma sul vostro sito ce n'è veramente per tutti i gusti Dalle interviste, insomma, alle storie Alle cronache delle partite piuttosto che delle gare Sì, un po' di tutto Nel senso che è quello che abbiamo voluto L'impronta che abbiamo voluto dare per differenziarci anche un po' dagli altri Non solo cronaca pura Perché insomma la fanno in tanti Ma anche interviste, storie legate a personaggi e eventi particolari Che il mondo dello sport non solo calcio Ne offre davvero un'infinità di spunti E quindi stiamo andando un po' a spulciare delle storie molto interessanti E costruendo anche, la cosa più bella, costruire rapporti con gli atleti Che si sentono un po' ignorati Per quattro anni Vengono considerati per due settimane e poi tornano nel dimenticatoio Quindi costruire un rapporto con loro nel periodo in cui loro non sono sotto i riflettori È molto bello E molti loro ce lo riconoscono anche Certo, certo Simone il Giudice e Marco Corradi Voi vi siete occupati, come diceva giustamente il direttore Insomma proprio anche dell'Olimpiade di Rio Com'è stato l'approccio in vista delle prossime Olimpiadi? Da dove dobbiamo ripartire? Ma allora innanzitutto, come già ha detto Luca in precedenza Abbiamo cercato di dare vita a qualcosa di particolare Che non ci fosse già in particolar modo Per distinguerci E siamo stati, almeno poi ci è stato riconosciuto Un punto di riferimento su Twitter Io mi ricordo ad esempio un giornalista Tancredi Palmieri Che saluto con grande amicizia Che ci aveva incontrato Quando siamo andati anche a fare un blitz al calcio mercato E ci ha detto siete stati Insomma un punto di riferimento per me Che ero a Rio E ero magari in giro E guardavo sul cellulare le cronache Anche perché poi ci siamo comunque cimentati con sport Lo dico anche sinceramente Tipo anche la vela A cui abbiamo dovuto abituare Non sono Non è così facile da affrontare L'equitazione L'equitazione L'hockey Insomma questi sport Arriverà anche l'hockey Complicati Complicati Al di là di Rio Insomma Marco Corradi L'ha detto, l'ha ricordato il direttore Avete proseguito il lavoro Cioè continuate a seguire gli atleti italiani Che si allenano Ovviamente giocano, giocano, gareggiano Tutto l'anno E per quattro anni tra un Olimpiade e l'altra Perché c'è così poca affezione C'è così scarso interesse Tra un'Olimpiade e l'altra Perché gli italiani si scoprono Tifosi, patrioti Solo durante le Olimpiadi Beh diciamo che nel resto del periodo Preolimpico Gli italiani seguono più che altro il calcio La stagione invernale viene considerata solo in quei 4-5 mesi In cui tutti capiscono che abbiamo grandi campioni E poi non li considerano Grandi campioni Alcuni dei quali sono stati intervistati da noi a Bolzano Alla Pro Winter durante i Fisi Awards Alla Brignone ad esempio Fili, Nerofer Abbiamo intervistato anche il presidente della Fisi Flavio Roda Però già in questi mesi Questi campioni non vengono granché valorizzati Lo stesso succede con alcuni sport minori Ad esempio gli atleti che andranno alle Olimpiadi Nella vela Per fare un esempio qualunque Non sono conosciuti da tutti Anzi Forse sono conosciuti da pochi Però Luca Lovelli Dare spazio a tutti gli sport Non solo quando ci sono le occasioni importanti Cioè quando tifi perché c'è la medaglia d'oro in palio È importante La risposta che avete avuto soprattutto Dalle federazioni Mi raccontavano i ragazzi Insomma è positiva Cioè c'è questa volontà di raccontare Di cercare di raccontare in modo un po' diverso Come fate voi Un po' alternativo, social, moderno No assolutamente Abbiamo stretto anche buoni rapporti Con le federazioni stesse Alcune che sono state difficili da trovare Perché loro stesse erano un po' tanto nascoste A me è venuto in mente Porto a esempio Il tiro a segno italiano C'è stata Io ho scoperto Io sono di Novi Ligure Provincia di Alessandria A Novi c'è un impianto di tiro a segno Che è tra i più apprezzati in tutta Italia E i tiratori italiani Quando li parli di Novi Parlano di una realtà veramente importante C'era una gara a cui Durante la quale sono andato a intervistare Marco De Nicolo Che è un atleta Che ha fatto la quarta Olimpiade Mi pare se non ricordo male A Rio E l'abbiamo intervistato E a questa gara non c'era veramente nessuno Anche della federazione nazionale Non era presente nessuno Quindi c'è un po' di distanza Tra il pubblico e la federazione stessa Si fa difficoltà a trovare contatti Io l'ho trovato per puro acaso Perché ho un'amica che fa l'impiegata nel tiro a segno Quindi è stato tutto molto casuale Partendo dalla mia città A livello di federazione Possiamo dire Serve qualcosa in più Serve un po' di organizzazione Se vogliamo Un po' più di coinvolgimento Anche per cercare di far risaltare uno sport Che magari perché no Attira degli atleti Sicuramente Adesso ti ho fatto un esempio Come quello del tiro a segno Ci sono tante altre federazioni Che devono solo farsi scoprire Anche loro Un po' di più Basterebbe davvero poco Secondo me Poi è chiaro Che noi siamo italiani E quindi segui La cultura La cultura è tendenzialmente quella Però Anche dalle federazioni Sarebbe bello avere quel qualcosa in più Che stimoli i bambini Ad andarle a trovare Sempre per tornare sul tiro a segno A Novi A Novi chi è che sa Che è uno dei tiro a segno migliori d'Italia Nessuno Ma io l'ho scoperto tre mesi fa Che abito da trent'anni Quindi Per dire Serve un po' più di Insomma Di interazione Tra le parti Sì Sicuramente Sicuramente Simone Abbiamo parlato di Rio Olimpiade che tutto sommato Possiamo dire Andata benino Poteva andare molto meglio Poteva andare molto peggio Da dove ripartiamo? Come nazionale Dall'atletica Tutti gli altri sport In vista sia delle Olimpiadi Di Pyongyang Dell'anno prossimo Sostanzialmente Che ovviamente Di Tokyo 2020 Quello è già un confine Forse un po' troppo in là Però insomma Bisogna incominciare a rifletterci In questo senso Ci sono state Ad esempio Nel caso dell'atletica E della box Non sono arrivati Dei grandi risultati A Rio Anzi tutt'altro Probabilmente L'atletica È anche messa peggio Al momento Rispetto anche alla box Poi avevamo seguito Io ricordo Anche Tutto il caso Di Tamberi Con Insomma Tutto quello Che Che gli era successo Nei mesi precedenti Con l'infortunio Ripartiamo Da alcune certezze Che sono Indubbiamente Come sempre La scherma Io sono Appassionato Di tennis Purtroppo Il tennis Non regala mai soddisfazione Quindi da quello Non possiamo ripartire Il nuoto Sicuramente Perché è stata poi L'Olimpiade Di Paltrinieri E poi Marco Curradi Le Olimpiadi Invernali Che sono Qui A un passo Beh Nelle Olimpiadi Invernali Ripartiamo Da un grande sci alpino Che ha ottenuto Il record di podi Quest'anno 43 podi In una stagione Che è un risultato Fantastico Di cui 13 solo Da Sofia Goggia E la Brignone Invece è uscita Nel finale di stagione E ha fatto Anche lei Sei podi E ha vinto Nelle finali Di Aspen Il gigante Con una gara mostruosa Per tornare Alle Olimpiadi Estive Invece C'è il tiro Tiro a volo Tiro a segno Anche se Campriani Forse non ci sarà Alle prossime Olimpiadi Probabilmente farà solo La gara mista Con la Con la sua compagna Con la Zubla Esatto Insomma C'è però Ci sono delle cose Da mettere a punto Su questo Su questo Ne dobbiamo parlare Ci fermiamo un momento C'è la pubblicità Torniamo Tra pochissimo Torniamo Parlando di Dove investire E su questo Secondo me È interessante Anche sapere L'opinione degli esperti Perché Come abbiamo visto Nelle altre puntate Nelle puntate Di Pavia Sport Precedenti Insomma Qualche atleta Qualche sassolino Dalla scarpa Se l'è tolto Ma ne parliamo Tra pochissimo Dopo la pubblicità Allora Siamo orientati in studio Ci siamo fermati Mentre stavamo parlando Di Olimpiadi Di dove investire Il tema Proprio dei finanziamenti Adesso che È andato in onda La pubblicità Insomma Ha creato un po' Di discussione Qui in studio Perché Luca Lovelli Lo dicevamo E tante federazioni Si lamentano E dicono Facciamo fatica In effetti C'è un po' Di squilibrio Tra le parti Insomma Diciamo che Quando c'è stata La ripartizione Dei fondi Da parte del CONI Quest'anno Alcuni si sono lamentati Come il calcio Anche se Insomma Guardando dal nostro Punto di vista Di chi guarda Tutti gli sport Il calcio è quello Che avrebbe bisogno Di meno finanziamenti Chiaramente dal CONI Altre federazioni Si sono lamentate Ma secondo me Una parte Si è voluto premiare Anche le federazioni Che hanno portato a casa Più medaglie da Rio Quindi da quel punto di vista C'è stato del premio Ecco Anche la pallavolo È aumentata molto Anche se La pallavolo È comunque uno sport Tra virgolette Privilegiato Diciamo così Un po' più ricco Di altri Molto più di altri Si Se si pensa Cosa porta a casa Il tiro a volo In termini di medaglie Quanto poco guadagna Questo significa una cosa Che il tiro investe Alla grande Le risorse che ha Tiro a segno E tiro a volo Ricordiamoci Perché l'Italia È uno dei pochi paesi Al mondo Che fa la differenza Tra le due federazioni Tra il tiro a segno Quindi il tiro al piattello Detto volgarmente così E il tiro a volo Che è il tiro al bersaglio Col bersaglio fisso Quindi quello di Capriani Tanto per capirci Sono federazioni Che non sono ricchissime Anzi Però Investono molto bene Le proprie risorse Che hanno grandi allenatori Grandi tecnici La scherma Grandissimi tecnici Una grande storia Ovviamente Molti italiani Stanno purtroppo Facendo vincere la Russia Perché Cerioni Allena comunque la Russia Tanti tecnici italiani Sono andati all'estero A insegnare sport Ezio Gamba Nel giudo Che è stato un fenomeno Nel suo sport Due medaglie olimpiche consecutive 80-84 Quindi l'italiano Viene cercato anche all'estero E spesso ci sono federazioni Più ricche delle nostre Non solo nel calcio Di cui abbiamo già Tanti esempi Anche in tanti altri sport E proprio il tema Luca Giro la domanda Sia a Simone Il tema degli allenatori È un tema molto sentito Perché in tanti Sia ovviamente atleti Che membri Delle varie federazioni Dicono Si bisogna ripartire Però dei tecnici Cioè i tecnici che abbiamo Non ci consentono Spesso Vuoi perché poco preparati Vuoi perché poco esperti Vuoi perché Insomma Bisogna tornare a investire Anche sugli allenatori Su chi forma L'atleta Beh in questo senso Direi di sì Anche se mi viene in mente Che alcune figure O anche alcuni Campioni storici Come medaglie Come lo stesso Yuri Keki Ma lo stesso Baldini Sono in realtà Entrati adesso A far parte Delle varie federazioni Quindi queste sono comunque Delle figure Dalle quali Si può ripartire Anche perché È gente che ha esperienza E che Delle medaglie Nella loro vita Le ha vinte Quindi questo è Io credo che puntare Sul tecnico Che ha vinto Si è una mossa Potenzialmente vincente Caso strutture Marco Corradi L'abbiamo detto prima Dove si allena Vanessa Ferrari Beh diciamo che Il caso di Vanessa Ferrari È uno degli emblemi Di quanto l'Italia Si è a volte arretrata Nelle strutture D'allenamento Vanessa Ferrari Si allenava In quella che era La palestrina Di una scuola Molto piccola Anche abbastanza Fatisciente A quanto diceva lei Dovrebbe averne ottenuta Una nuova Negli ultimissimi anni Però comunque Si è allenata per anni Nelle sue stagioni d'oro E sono tanti gli impianti Ridotti in questo stato In sport Come ad esempio La ginnastica Anche l'atletica stessa Nelle realtà Non maggiori Dell'Italia Sportiva Anche i tuffi Anche i tuffi Voi che avete avuto Il polso della situazione Abbiamo visto Tanti servizi Proprio realizzati Insomma Con presidenti Di federazioni Con atleti Di un certo livello Mi viene in mente Marco Di Nicolò Mi viene in mente Nespoli Insomma Che è uno anche Della nostra provincia La sensazione Che avete avuto Quando parlavate Con persone Comunque erano Medagliate Erano persone Atletiche Hanno vinto Tanto E qual è Nei confronti Della federazione Nei confronti Dell'organizzazione Dello sport italiano Simone Ma allora In primis Quello che abbiamo Sempre avuto Come sensazione È stata quella Di essere davanti A dei ragazzi Che è un po' diverso Da essere davanti A dei fenomeni O che gente Che si atteggia A fenomeno Perché nel calcio Lo sappiamo Che funziona Così Mi viene in mente Ad esempio Che quando abbiamo Intervistato Nespoli Siamo andati Dove lui Si allena Se non erro Gli arcieri Di Voghera Giusto Di CF Voghera Esatto E quindi Ci ha accolto In una maniera Estremamente Amichevole Amichevole Quindi Questa è stata Ed è tuttora Secondo me La cosa che ci Anche motiva Molto a portare avanti Questo Perché ci Rapportiamo con Sportivi Che sono Molto spesso Sempre Alla mano Quindi io mi sento Di dire questo In relazione Alla domanda Alla domanda Marco Corradi Beh sì Senza dubbio È molto bello Relazionarsi con Dei ragazzi Che ti trattano Come un loro pari Non come il giornalista Arrivato dal basso A intervistare Il campionissimo Nespoli stesso Ma anche La Brignone Che banalmente Quando è stata Intervistata La prima volta Da noi In radio E poi anche dal vivo Aveva appena vinto La gara di Aspen Aveva appena Chiuso una stagione Che l'ha vista arrivare Quinta In Coppa del Mondo E avere un crescendo Di prestazioni Entusiasmante E ci ha trattato Come se fossimo Quasi Degli amici Questo come ci aveva Riconosciuto A Bolzano Insomma Diciamo che È un buon viatico Anche per cercare Di coinvolgere Di coinvolgere di più Qualche tifoso Magari Che si aspetta Insomma Chissà Chissà mai Che si aspettasse Di andare a vedere Una gara Di far fatica Magari a vederla O di avere a che fare Con persone Che non si fermano A parlare con i tifosi Come se spesso Si fa da altre parti Invece Così non è Simona Lo Giudice Per chiudere Il discorso Olimpiadi Poi vado anche Da Luca Lovelli Che tra l'altro È accreditato Proprio per Le prossime Olimpiadi Invernali Quindi chissà mai Che non ce le venga A raccontare Simona Lo Giudice Tu hai seguito Anche le Paralimpiadi Mi raccontavi E anche lì Che esperienza è stata Perché nella prima parte Abbiamo parlato Di sport di disabilità Anche lì Bisogna lavorare Un po' di più Per cercare Sì Io ricordo ad esempio Che quello che abbiamo fatto Nei mesi appena precedenti Alle Paralimpiadi È stato quello di andare a vedere Quali fossero i qualificati E provare a sentirli Io ad esempio Ho avuto il piacere Di intervistare Francesco Bocciardo Che è appunto Un notatore paralimpico Di Genova Se non era comunque Ligure E quando l'ho intervistato Ovviamente non era ancora un oro Quindi questa è la Cioè fa comunque affetto L'idea di essersi approcciato A un ragazzo Che di lì a poco È diventato un medagliato Ed è insomma La quotidianità Del rapporto Quella che viene messa Più in evidenza Anche perché Non so L'università Banalmente Quando ci si è sentiti Mi ha detto No sai dobbiamo Mi devo organizzare O le lezioni Stessa cosa con Manfredi Rizza Che noi abbiamo intervistato anche Chiaro Pavese tra l'altro Pavese Siamo andati Alla Canottieri E c'è stata una situazione simile Certo Certo Anche lì Come bisogna Dove bisognerebbe lavorare Per cercare di renderle Veramente più Più appetibili Se vogliamo Ma anche Per farle seguire un po' di più Perché spesso sono risultati Importanti anche a livello sportivo Non solo a livello personale Insomma per gli atleti Ma anche importanti a livello sportivo Non so Io credo che dietro Deba esserci una narrativa Cioè ci devono essere Dei personaggi Che fanno da trai E che in questo modo Insomma Salga l'interesse Nei confronti Di quell'atleta O di quella disciplina In un certo senso Zanardi Rappresentò questo Per quanto riguarda Landbike A partire da Londra 2012 Ed è lo stesso discorso Di Bebevio A partire dalle Paralimpiadi Del 2016 Quindi servono Io credo Anche i personaggi Affinché Il pubblico Comunque possa Affezionarsi Anche a un nuovo sport E da lì Anche il movimento televisivo In media Insomma A ruota Esatto Seguire il discorso Luca Lovelli L'abbiamo detto prima Tu sei Insomma Accreditato per Pyongyang Che impressione ti fa Visto che Insomma Non è proprio vicinissimo Non è una di quelle città Dove uno dice Vado a farmi il fine Settimana Guardarmi Precisiamo Pyongyang Perché se no i nordcoreani Sarra Ok esatto Giusto Giusto Pardon Pyongyang Pyongyang Non è una città Comunque vicinissima Neppure quella Non è una di quelle Uno dice Vado a farmi il fine Settimana Vado a Pyongyang Come hai ottenuto L'accredito e che cosa andrai a raccontare Dunque Allora La nostra richiesta di accredito Intanto È arrivata A un anno e mezzo Dall'evento Perché i tempi Come puoi immaginare Sono lunghissimi Francamente All'inizio Non ci speravo molto Perché In realtà nuova Non è ancora troppo conosciuta Invece Il CONI Ci ha riconosciuto Ci è arrivata la conferma Al 3 gennaio Di questo accredito Ora sto Ultimando Proprio in questi giorni Le procedure Assegnazione dell'albergo Pagamento E quant'altro Insomma Ci andrò ufficialmente A Pyongyang Che è un paese Che è a circa 300 km da Seoul In Corea del Sud Io starò Sulla costa oceanica Perché Pyongyang È il luogo Dove ci saranno Le gare scistiche Invece io sarò Nella città Dove ci saranno Gli sport al chiuso Un po' come era Torino 2006 Sono nella città Dove ci saranno Patinaggio Curling Hockey E quant'altro E così via Beh intanto Dove iniziare Sarà un'emozione Anche grandissima Per me Un'enorme soddisfazione Sapere di essere in mezzo Anche a colleghi Che magari sono Alla settima Olimpiade Io sono Alla prima Quindi dividere Anche solo banalmente La stanza O la sedia O la scrivania Con loro Sarà una grande emozione Saranno tre settimane Di lavoro Intensissimo Durissimo Che farò con immenso piacere Perché comunque si lavora Neanche te ne accorgi Se guardi 16 ore Al giorno di quello Che ti piace Quindi sarà Sarà fantastico Penso io E sarà bello Davvero poter Vivere assieme Anche agli atleti Quello che provano Nelle loro Tre settimane più importanti Della loro vita Dove si giocano una carriera Dopo tre anni e mezzo Precedenti di sacrifici In cui le luci sono spente Di lavoro Prima di In preparazione di E beh Sarà sicuramente Interessante Anche per noi Seguirla da casa Da un po' più Da un po' più lontano Della Corea del Sud Allora Noi adesso Ci andiamo a guardare Un servizio Realizzato dal nostro Paolo Barni Sul bilancio Della stagione Della Florence Vigeono Parliamo di volley Florence che si conferma In B1 Poi torniamo Con i nostri ospiti Di Azzurri di Gloria Dalle Olimpiadi Passiamo a parlare Proprio negli ultimi 5-10 minuti Del Giro d'Italia Perché si è concluso Recentemente E è stato uno Dei giri D'Italia Adetta di molti Tra i più entusiasmatici Però Torniamo subito Qui in studio Dopo il servizio Di Paolo Barni Siamo al sciogliete le righe Di fine campionato Innanzitutto Un giudizio generale Su questa stagione Che è appena andata in archivio Sì La stagione che è appena andata in archivio Ci ha visti consolidare il risultato Anzi migliorare il risultato Dell'anno precedente Questo era l'obiettivo Che ci eravamo prefisso E pertanto Diciamo che La situazione A fine anno È positiva Rispetto a tutto Quello che Erano Le previsioni Ecco Questo campionato È stato contraddistinto Diciamo Da Quattro fasce Le primissime Che sono andate Quelle che si giocavano In posto del playoff Alcune che si sono staccate E poi Il grande E la grande battaglione centrale Dove voi Vi siete fatti valere Non è il primo anno Che Questo campionato di B1 Si pone In questi termini Pensate che anche per il futuro Potremmo assistere A campionati di questo genere Cioè Dove si formano Dei grossi scalini Le previsioni Per l'anno prossimo Noi pensiamo Di restare ancora Nella categoria Cercando di navigare A metà classifica Perché purtroppo Le sponsorizzazioni Non arrivano E purtroppo Dobbiamo fare i conti Con La parte economica Della Della gestione Di tutto Di tutto L'apparato Pertanto Resteremo Nell'ambito Cercheremo di migliorare Quello che è possibile Migliorare Però cercheremo Di navigare ancora Nella stessa situazione Voi però Non avete solo La prima squadra Come è strutturata A livello generale La Florence Sì Sotto la prima squadra Ci sono altre 8 squadre Che militano Nelle categorie Inferiore A partire Dalla prima Divisione Fino Alla terza Divisione Poi tutte le squadre Under Under 12 Under 13 Under 15 Sì Diciamo che per noi È il primo anno Dove siamo riusciti Ad arrivare Quasi alla fine Alle finali provinciali O semifinali provinciali In quasi tutti i campionati Abbiamo fatto la finale Provinciale Under 14 E siamo arrivati In semifinale Con l'Under 16 L'Under 13 E comunque abbiamo fatto bene Anche negli altri Campionati Under Diciamo A che età si inizia A giocare a pallavolo? Si inizia Intorno ai 5-6 anni Partecipando al mini volley E poi a salire Ci sono le varie Le varie squadre Under Dall'Under 12 All'Under 14 L'Under 16 Noi purtroppo L'Under 18 Non ce l'abbiamo Ci fermiamo All'Under 16 Quali sono le motivazioni Che spingono Le giovanissime La voglia di stare insieme La voglia di giocare Vengono più per il gioco O per stare con altre amiche? Ma allora Secondo me Sono entrambe le cose Abbiamo sicuramente Le ragazzine Che magari vedendo la televisione Dai cartoni animati Alle partite in televisione Si appassionano Oppure vengono qualcuna Gravita a vedere noi La prima squadra E si appassionano E hanno voglia di provare Anche loro a giocare E iniziare Altri invece Proprio perché hanno Delle compagnie di squadra Di scuola Che hanno provato E si sono trovate bene Vogliono anche loro Iniziare Per stare in compagnia Far parte di un gruppo Provare a fare Un'esperienza del genere Allora abbiamo visto Il bilancio Della Florence Che ha chiuso Anche quest'anno In Serie B1 Chissà che l'anno prossimo Non si possa arrivare Un po' più in là Ringraziamo Paolo Barni Per il servizio Noi come vedete Dal nostro titolo Abbiamo cambiato Dalle Olimpiadi Passiamo a un altro sport Che comunque Insomma abbiamo trattato Proprio recentemente Nel nostro programma Ed è il ciclismo Perché si è concluso Lo saprete bene Tutti il Giro d'Italia Abbiamo voluto fare Questo processo al Giro Vado da Luca Loelli Per chiedergli Insomma un bilancio L'abbiamo fatto Della Florence Facciamolo anche Su questo Giro d'Italia Che giro è stato Questo centesimo Allora secondo me È stato riuscito Dal punto di vista Del avvicinare Ancora più gente Al ciclismo Perché operazioni Diciamo di Marketing Comunicazioni Molto mirate La gente È stata ancora più vicina A questo Giro Però C'è un grosso però Secondo me Nel senso che Non è Dal punto di vista Dello spettacolo Ci sono certe tappe Che sono state costruite Un po' male Le tappe di montagna Non ci sono stati Degli arrivi In alta montagna Magari Le fasi Insomma Gli strappi in salita C'erano all'inizio Della tappa E non dopo E questo Ha permesso Un sostanziale Equilibrio Che c'è stato Fino in fondo Il bello È stato sicuramente L'equilibrio finale Quattro corridori In un minuto Fino all'ultima crono Non è mai successo Nella storia del Giro E quello È stato bello Alcune tappe Il tragitto Poteva essere A mio avviso Costruito meglio Anche perché Alcune tappe di montagna Sono state messe subito All'inizio del Giro Che contava poco Per intervallare Alcune tappe per velocisti E lì contava Oggettivamente Abbastanza poco Certo Però mi rendo conto Che questo Giro Cento È stato proprio Per celebrare Per celebrare L'Italia in sé Quindi si è partito Da Sardegna Si è arrivato in Sicilia Si è voluto toccare Tutto Tutto lo stivale E le isole Quindi Forse Non c'è stata La concentrazione Di tappe Veramente Tanto impegnative Troppo in salita Per favorire Il corso che facevamo Prima sui media E tv Si è andato sulla stessa Lunghezza d'onda E si è dato vita A un Giro Che Cercando di Far sì che fosse Competitivo Proprio fino Fino a Piazza Duomo Che Giro è stato? Simono Podio Ecco Diciamo I tifosi Che c'erano ieri In una incandescente Piazza Duomo Voi avete eseguito Anche diverse tappe Molto caldo Sì Io Piazza Duomo Ma ad esempio Luca e Marco Sono stati anche A qualche etapa precedente La partenza Da Castellania Sì Diciamo comunque Da quello che io ho percepito Magari poi Marco Non la penserà così Ma Dumoulen Non è stato Cioè Non aveva tantissimi tifosi Detta Prima Detta Brutalmente Il primo olandese Che lo vince Non aveva tantissimi tifosi Quintana Forse aveva più tifosi di Nibali O forse erano più rumorosi Tifosi di Quintana Rispetto a quelli di Nibali Ecco Certo Marco Corradi Tu hai seguito anche La tappa di Castellania Che era un po' Una tappa simbolo Se vogliamo Pensata in un certo modo Anche Beh diciamo che era una tappa Che aveva un percorso Si partiva da Castellania Il paese natale di Coppi 90 abitanti Un paese che è stato stravolto In quel giorno Come Luca Lovelli Ha ben visto Eh sì E si arrivava ad Europa Che è la salita simbolo Di Pantani La grande rimonta Dopo il salto di Catena Tra l'altro quella tappa È stata vinta da Dumoulin Sì Dal vincitore del Giro d'Italia Un vincitore A sorpresa Per come è arrivata la vittoria Nel senso che Dumoulin A parte qualche episodio Sfortunato Anche ha avuto Un attacco contestinale Qualche dichiarazione Anche un po' fuori dalle Qualche dichiarazione Fuori dalle righe Su Nibali E Quintana Che si guardavano attorno E facevano andare via Pinot Che fino a ieri Era in corsa Per strappare il podio Entrambi Sì Quindi ci può anche stare Come ragionamento Dumoulin ha retto Bene o male Su tutte le salite Ha avuto un passaggio a vuoto Venerdì Ha tenuto bene sabato Grazie all'aiuto degli olandesi Di Mollema e di Jung E ieri ha fatto La grande rimonta Nella cronometro Non andando neanche Al massimo A quanto ha detto lui Il suo direttore sportivo Gli ha consigliato Di fare quello che serviva Per vincere Infatti ha vinto Con 30 secondi Quintana Ha tenuto molto bene Ha mantenuto il podio A differenza di quanto tutti pensavano Perché non è un cronome Ne aveva preso due minuti e mezzo Di distacco Nella precedente cronometro Invece ha riuscito A non scivolare quarto Come sembrava Che dovesse accadeva Un giudizio su Nibali Come diceva Simone Allora Nibali Soddisfacente Un terzo posto Non era scontato Nibali è soddisfacente A metà Nel senso che poteva Essere il vincitore Del Giro d'Italia È arrivato a 39 secondi Se avesse attaccato In tutte le tappe di salita Come ha fatto Pinot Che era quello che aveva perso Insieme a Dumoulin A Bormio E ha tentato di risalire sul podio Invece Nibali e Quintana A volte hanno peccato Nella tattica Nel senso che si sono guardati Tra di loro Hanno magari sottovalutato Alcuni avversari Che potevano strappargli il podio Hanno pensato Che Dumoulin Sarebbe crollato A prescindere Perché non aveva la squadra Invece Dumoulin Ha completato un percorso Che era iniziato due anni fa Con una vuelta In cui aveva tenuto La maglia di leader Per una decina di giorni Prima di crollare miseramente Era proseguito Con lo scorso Giro d'Italia In cui aveva fatto La stessa cosa Durando una settimana E ha vinto il Giro E probabilmente Ora proverà A fare quello Che ha fatto Indurain Ovvero vincere il Giro Non essendo lo scalatore puro E puntando tantissimo Sullo cronometro Di fatto Luca Lovelli C'è questa Dumoulin Come ti è sembrato Innanzitutto Cresciuto, maturato Può davvero fare Il percorso di Indurain? Ma io credo Che abbia raggiunto Un livello di maturazione Veramente importante Ma perché Soprattutto anche Tanti addetti ai lavori Alla vigilia del Giro Dicevano Il 99% rispondeva a Quintana Sulla vittoria del Giro Con Nibali Un po' dietro Ma comunque Per patriottismo Sì Più per patriottismo Dumoulin Francamente Magari qualcuno Azzardava Un Dumoulin Possibile Terzo posto Podio Invece questo Giro Se l'è meritato proprio Diciamo le cose come stanno Se l'è proprio meritato Nelle tappe Ha fatto valere La sua grande capacità Cronometro Dove ha fatto la differenza In maniera assoluta E ha saputo Vincere Una tappa importante Come quella di Europa E reggere In tutte le altre Nonostante Un problema fisico Notevole Purtroppo Un'indisposizione Che purtroppo Può capitare In una tappa importante Dove poi Nessuno L'ha aspettato Perché tutti Sono andati via Lui ha perso Tanto tempo lì E nonostante questo È riuscito A rimontare E vincere poi Vincere poi Questo Giro Io francamente Non avevo dubbi Che vincesse lui Ieri Con quel distacco Io ho detto Ma Pensavo Se il distacco Fosse stato Superiore al minuto Se ne sarebbe potuto Riparlare Tra lui e Quintana Essendo inferiore Ho detto Non ci sono dubbi Anzi Quintana Comunque è stato Davvero molto bravo Che in una crono Che non è veramente Il suo pane quotidiano È riuscito a tenere Secondo posto Complimenti a lui Io avrei scommesso Nibali come secondo Mi ha molto deluso Pinot Nell'ultima Nell'ultima cronometro Perché comunque Campione nazionale a crono Non è uno specialista Assoluto come Dumoulin Ma mi aspettavo Un Pinot Comunque più combattivo Per il podio Dove può arrivare Dumoulin? Dumoulin Lo vedremo anche Nei grandi giri Successivi Che rimangono Appunto Tour de France E Vuelta E Fare il bis È sempre Molto molto complesso Vediamo anche Chi non ha partecipato Al giro Gli atleti Che non hanno partecipato Al giro Cosa avranno da dire Al Tour de France Perché Molti preferiscono Fare o l'uno O l'altro E metterci magari Anche la Vuelta dopo Però fare tutti e tre È un po' difficile Non è semplice Quindi Se Dire che Dumoulin Possa magari ripetersi Al giro Eventualmente al tour Io Non la vedo così Non la vedo così Scontata Poi dopo Quando c'è stata Le interviste Lui ha detto Che ora vuole prendersi Un bel break La domanda è stata Cosa farei dopo E lui ha detto Un barbecue Perché lui Di fatto Andrà in vacanza E non farà il tour Non farà il tour Probabilmente farà la Vuelta Lui ha sempre fatto Giro a Vuelta Io prima ho detto Tour Ma il prossimo giro È la Vuelta In chiusura Proprio poi Dobbiamo salutarvi Giro 100 Toccato come diceva Luca Tante tappe Ha toccato Anche la provincia Di Pavia Ha toccato la provincia Di Alessandria Ed è stato un giro Molto seguito Anche dalla gente Che magari Negli altri anni Non avrebbe forse Non si sarebbe approcciata Non avrebbe fatto Il pubblico Ad aspettare In piedi un'ora Il passaggio dei conti Corridori È un buon segnale È un ottimo segnale Diciamo che il giro Tira sempre Però quest'anno Si è visto qualcosa in più Vedere Nella tappa Che è arrivata Vicino A Biella 200.000 persone Nel biellese 200.000 persone Non esattamente La terra più abitata Del mondo Che sono all'arrivo Di una tappa Sono numeri Stratosferici Un buon segnale Poi chiudiamo Simone e Marco Anche per Magari i futuri Ciclisti Quelli che lo guardano Da piccolino Dicono Anch'io lo voglio fare Un buon segnale Che Magari diversamente Dalla pallavolo Che ha avuto L'espluato Con Rio Ci ricordiamo Quella nazionale Come ci ha Coinvolto E emozionato Da lì Il campionato di pallavolo Magari è cresciuto Di interesse Anche su quell'onda Lì Per quanto riguarda Il ciclismo Il ciclismo Io ricordo Elia Viviani Immenso a Rio Però questo forse È il ciclismo Che cresce Più da sé Che cresce Esatto Almeno io la La vedo un po' così Beh è stato senza dubbio Un grande giro Vedere anche città come Tortona E noi eravamo A quella tappa Anche la tappa Che ha vinto Gaviria La quarta volata Vinta da Gaviria Gremite di persone Gremite di gente Per l'arrivo Di una tappa Che era da velocisti E che quindi Non avrebbe fornito Grandi spunti A livello di Big della classifica È stato entusiasmante Da abitante Di quella città Certo Per quel che riguarda L'Italia Si può ancora migliorare Perché abbiamo vinto Una sola tappa Con Nibali A Bormio Appunto Su un terreno A lui congeniale Salita e poi discesa Quindi Classico attacco di Nibali Si può migliorare C'è Maresco Che tra l'altro È di questa provincia Che è un ottimo atleta E ha fatto secondo In una delle volate Era anche un po' insoddisfatto Perché lui voleva vincere Quindi ci sono Gli atleti Ci sono i presupposti Ci sono i presupposti Allora Abbiamo veramente finito Grazie a Luca Lovelli Grazie a Simone Lo Giudice Grazie a voi Grazie a voi E ovviamente In bocca al lupo Per il proseguo Della vostra attività Con Azzurri di Gloria Io ringrazio L'ultima puntata Permettetemi di ringraziare Tutti i nostri tecnici Il nostro regista Danilo Daniele Andrea Tutti quelli che hanno collaborato Alla realizzazione Di questo programma Gianni Arrigone Il nostro editore Noi ovviamente Non vi lasciamo Soli dopo questa Dopo questa puntata Perché c'è Come sempre Sport in campo Abbiamo la finale Dici Silver Parliamo di basket Tra Cremon Erba Nessuna pavese purtroppo È arrivata in finale Ma è lo stesso Una gara da guardarsi Da godersi Veramente fino in fondo Grazie Come sempre Per essere stati con noi Anche questo lunedì E appuntamento ovviamente Alla prossima stagione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti